L'ictus è una patologia che ha un grandissimo impatto sia sociale che sanitario. Nella sola provincia di Modena ci sono circa 1200 ictus all'anno. È bene distinguere tra ictus ischemico e ictus emorragico. Nel primo caso un'arteria si chiude, nella seconda invece un'arteria si rompe. In tutti i casi di ictus possiamo comunque intervenire per cercare di migliorare le condizioni del paziente. Presso l'ospedale di Bagiovara, che è l'hub della provincia di Modena, si effettuano i cosiddetti trattamenti di riperfusione per l'ictus ischemico. Sono quei trattamenti che consentono di riaprire l'arteria chiusa per migliorare le condizioni del paziente. Tante volte anche riportarlo hanno una completa autonomia, che è l'obiettivo del nostro lavoro. Anche i cittadini possono fare molto per prevenire l'ictus. L'aspetto principale è il controllo dei fattori di rischio. I fattori di rischio tipici per le malattie cerebro-cardiovascolari come l'ipertensione, il diabete, l'obesità, la fibrillazione atriale, le cardiopatie. Sono tutte problematiche che vanno gestite e mantenute sotto un attento controllo grazie alla collaborazione stretta con il medico curante. Un aspetto che è importante tanto quanto le terapie in acuto è certamente quello della riabilitazione. Dopo la fase acuta il paziente può essere trasferito a seconda delle indicazioni presso il reparto di riabilitazione intensiva dove possono proseguire il trattamento riabilitativo sempre con l'obiettivo di un recupero il maggiore possibile delle autonomie precedenti. Presso il nostro ospedale negli anni sono state effettuate più di 2700 trombolisi endovenose e più di 1500 trombectomie meccaniche. Ogni anno trattiamo tra le 150 e le 200 pazienti con trombolisi endovenosa e circa 180-200 pazienti con trombectomia meccanica endovascolare.